Eh, mi butto, eh. Eh, caro, che in... Dove c'è il bandit? Dove c'è il bandit? Ghesha. Eh, capirai? Fa passare, ah, boom. Ah, fa il mucco. Ah, qui è scherzo, son, ghesha. Così, è proprio inutile. Ziervo proprio, quando è vero è di... Ferimento, zifla, fattelo, fattelo, zifla. Cioè, fai entrare. Sto entrando. Sì, ma non c'è... Sì, ma non possiamo aprire, mi si... Vabbè, vai tranquillo, non ti preoccupare. Venti secondi. Dove sta la cosa, chi ce l'ha? Io. So dietro di te. Tanto non è un problema con me, cazzo, io pusho duro. Vai, 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 vai. Pusso sotto, pusso sotto. Sali qua e innesca, sali qua e innesca. Già l'ha usato il C4. No, l'ha... ah, ok. L'ha usato già il C4. Sta salendo. 5 secondi. Disinnesco bomba avviato. Proteggete il disinnescatore. Figa, tanto c'è il Misti. Non c'è bisogno di vivere da aprire, cazzo. Li faccio tutti. Io, puttana, Eva. Eddshot, eddshot, eddshot. Tutti eddshot. Perché io sono un fottuto lion main, stronzi.